Eccoci qua, buongiorno e bentornati a tutti qui su Duffere Boldrin, ciao Michele, di nuovo di ritorno dagli Stati Uniti. Ciao carissimo, siamo qua sul luogo di lavoro, nel luogo di lavoro, sul luogo di lavoro, al luogo di lavoro. Diciamo del luogo di lavoro, dai, così siamo sicuri di sbagliare dal luogo di lavoro. Siamo qua per il luogo di lavoro, sono perfetto. Ciao, cosa mi racconti? Bene, bene, bene. Ma io sono felice di come stanno andando le date di Seneca nel traffico, questo weekend sarò a Milano con due date, mi raccomando segnatevele le due date di Milano, una già tutta esaurita, l'altra invece. Milano, eh, mi raccomando. Sotto in descrizione mi raccomando. Seneca nel traffico. Ah, ne abbiamo già parlato, sì, quando arrivo io hai già finito il tour, vabbè, mi farei una presentazione privata. Una presentazione privata, assolutamente, dai. Ecco, quindi quest'oggi, quest'oggi... Dimmi, cosa c'hai in mente? Io sono, cosa vuoi, sto davvero perdendo il senso quasi di tutto, un po' sto cercando di lavorare, insomma non leggo neanche il New York Times, infatti anche stamattina non ho ancora perso. Sto perdendo il senso di tutto, cioè questa affermazione è quasi, quasi apocalittica, perché insomma... No, no, della quotidianità, cioè degli eventi che... Beh, guarda, c'è stata la cosa che si è dibattuta di più questo weekend, è stato sicuramente il climate strike, lo sciopero per il clima, e io credo sarebbe qualcosa di interessante ragionarci. Io l'ho fatto, per esempio, anche nel podcast di qualche giorno fa, perché mi sono un po' domandato come mai, come mai questo tipo di problematica così globale, così importante, così umana, sia stata, sia diventata in molti casi una problematica identitaria, cioè che è stata inghiottita da una certa parte politica, e quindi da un lato sotto casa mia è sfilata questa manifestazione, in cui, però, non c'erano tantissimi cartelli per l'ambiente, ma c'erano tantissimi cartelli no TAV, no OGM, no al capitalismo, bisogna darsi la decrescita felice, eccetera, eccetera, che ovviamente sono cose che non hanno a che fare... Davvero? Davvero? Sì, sì, qui devo dire che la manifestazione che è sfilata sotto casa mia, ma anche quella a Vicenza e anche in altre città, essendo che sono state gestite poi da centri sociali, perché in tantissime realtà sono state gestite direttamente da centri sociali, capisci che c'è una questione, alcuni mi hanno risposto dicendomi questo, allora, non so, inizierei a ragionare su questo, eh, ma dalla parte vostra non c'è nessuno che le organizza certe cose, e io un po' di percezione... La parte nostra, cioè vostra, cosa c'è? Insomma, destra e sinistra sarebbe questa roba. Esatto, esatto, è sempre destra e sinistra. Quindi non siamo quelli di destra. Oddio, chiariamo, nella destra italiana io mi riconosco forse addirittura meno che nella sinistra italiana, cioè è una gara. Al ribasso. Però l'osservazione che fai è vero, cioè mondialmente la questione dell'ambiente ha quasi da sempre, non da sempre, ma quasi da sempre è diventata, è stata, si è appropriata di essa la sinistra, anzi la sinistra per certi versi peggiore, perché almeno nelle manifestazioni pubbliche è diventata una forma di religione, no? Di odio verso il cosiddetto modello di sviluppo. E ovviamente questo è frutto, da un lato, di una grande confusione, proprio ignoranza pura. E dall'altro, sì, dal fatto che la cosiddetta destra mondiale o chiunque sia non socialista, mettiamola così, ha fatto molta fatica ad accettare che ci sia una questione ambientale. Esatto, esatto. E quindi sono sviluppate e proposte modelli di analisi. Certo, la cosa divertente, sai, la cosa divertente è che io ho ricevuto, non si parla di 4-5, ma si parla di qualche decina di commenti fra Instagram, YouTube, Facebook, out of the blue, come diteli da voi, in cui mi dicevano, eh ma visto che tu difendi il capitalismo sicuramente questo tipo di problema non lo senti minimamente. Quindi se sei dalla parte del libero mercato c'è subito questa cosa qua che dici sì, sicuramente sei un negazionista, quando in realtà le cose ovviamente non stanno affatto così. Credo... Cioè, capiamoci, io, ecco, su quella lì devo dire ho fatto un paio di post nella mia versione giovanile e un po' pestifera di Michelino Gampaltina. Polemici, anzitutto ho sgradito enormemente, questo va detto, ecco, cioè, questo è successo solo in Italia, però ho trovato rivoltante, letteralmente rivoltante. La donna, la maglia è una persona disgustosa, da sempre, cioè una che ha un cursus sonoro, a parte che intellettualmente è una chiappa totale, di un'ignoranza truculenta, ed è una umanamente disprezzabile. Craxi, Berlusconi, ha servito tutto il peggio. Cioè, io davvero questa roba la devo dire anche ai ragazzi. Io che trovo questa roba italiana, che è finito a insulti personali, a presi in giro, bagnai, che prende in giro la ragazzina. Ecco, quella destra lì, capisci? Dell'eterio, dell'eterio. Cioè, dal vomito, cioè, sono dei livelli che fanno disperazione. D'altra parte, è anche vero, sì, cioè, io ho detto, ragazzi, cioè, volete prendere la questione dell'ambiente seriamente? E la questione dell'ambiente presa seriamente implica una risoluzione drastica, personale, di cambio dello stile di vita, se davvero pensate che sia assolutamente urgente ridurre in modo drastico l'emissione di CO2. Ok? Oppure, se vogliamo prendere l'ambiente in maniera più generale, se vogliamo ridurre drasticamente il nostro impatto sull'ambiente. Infatti, è un fatto un po' spolemico da vecchio montanaro. Io da 40 anni non sopporto la distruzione dell'ambiente montano. Per carità, non provocherà global warming. Secondo me lo provoca global warming perché fa incazzare quelli come me che ci sono scattiati. Fa incazzare un po' troppa gente. Diventate fulcre di calore. Esatto, provoca local warming e porchi a volontà. Ho visto che la battuta sui porchi ha tenuto un certo successo per i tuoi ascoltatori. È vero, è vero. Però anche quella distruzione dell'ambiente, io lo trovo disgustoso, no? Dalle biciclette elettriche, le seggiovie ovunque, le strade sempre più larghe, i 14 wheel drive che arrivano dappertutto, le orde umane. E quindi è un problema serio. E se vogliamo andarci sotto e finisco, qui paradossalmente mi trovo d'accordo con una che è diventata l'epitome, il simbolo della sinistra impazzita americana. Però su questa unica cosa, l'occasio cortezza, da cui l'ho capito, si è riuscita con la frase giusta. Dice, guardate che il problema è che siamo 7 miliardi in via di diventare 8 e poi 9. Vuoi davvero che finiamo sul problema demografico? Perché qua veramente siamo un po' in disaccordo e a te mi sa. Eh tesoro mio, bisogna riuscire a decidersi, cioè capiamoci, io non ho valori assoluti, cioè sì, a me piace, certi spazi naturali mi piacciono naturali. C'è mare, che montagna, che collina, ma anche il giardino di casa mia. Certo. Sì, andare al mare e trovare la gente che muore la plastica dappertutto, che c'entra molto poco con il modello di sviluppo capitalistico, ma c'entra con free riding, public goods e tutte queste cose che noi economisti studiamo, a me dà estremo fastidio. Dopodiché mi rendo anche conto che altri mi dicono ma gli esseri umani hanno diritto di vivere e diventare ricchi. La questione fondamentale è in base a che logica decidi qual è il numero ottimo di esseri umani, Riccardo? Ah beh, non ci sono criteri, cioè il punto è proprio quello, il punto è che non ci sono criteri. E quello che è emerso, io ho fatto un video sulla dichiarazione dell'Aucasio Cortese che ha fatto discretamente discutere e ha aperto un dibattito molto interessante. Il punto è proprio quello che non esistendo un criterio possibile, tu hai due strade. O da un lato crei le condizioni per cui i paesi che oggi hanno grande crescita economica riescano a trovare il loro equilibrio, e quello lo sai meglio di me. Beh, ma cosa vuol dire? Vogliono trovare il loro equilibrio. Quali sono i paesi che smettono di fare tanti figli, Michele? Cioè, a un certo punto sono i paesi in cui gli individui sono sufficientemente soddisfatti della loro vita da smettere di dover filiare perché devono trasmettere ai loro figli un benessere che loro non hanno avuto. Cioè, storicamente, i paesi che frenano in modo sensibile e veloce la propria demografia sono i paesi che riescono ad accedere a un maggior grado di libertà per i propri cittadini, grazie alla tecnologia. D'accordo, d'accordo. Quindi, oppure, o hai questo, cioè, o hai questo, aspetta, aspetta, finisco, o hai questo, o metti nelle condizioni i paesi di arrivare a questo, oppure fai un controllo di tipo autoritario. Cioè, nel senso, non ci sono altre strade. Qual è la strada che segui, non essendo possibile delineare un criterio? No, no, infatti io non ho criteri assoluti, nel senso che non li voglio imporre a nessuno, do la mia opinione. Certo. La mia opinione, ovviamente, magari è selfish, eccetera, ma la mia opinione dice siamo almeno 4-5 miliardi più del necessario. Se fossimo 2 miliardi saremmo tutti molto più felici, non c'è dubbio su quello. Sarebbe tutto più semplice, ci sono intere aree del mondo che potremmo dedicare a parchi. Se fossimo 2 miliardi, magari io e te non saremmo qua a discutere di questo, cioè... Certo, ma non lo avremmo mai saputo. Qui c'è il problema filosofico di quelli che non sono nati, ok? O del benessere di quelli che non sono nati, capisci, è un problema da buttare via. Siccome non sono nati, è inutile porsi il problema delle loro sofferenze mancate. Sono d'accordo. Ah beh, su questo è indubbiamente. Perché l'argomento sciocco secondo cui crea più felicità, partorisci ogni 14 mesi, è un argomento demenziale. Semplicemente un argomento idiota. Ma certo che è un argomento idiota, ma guarda, appunto, il punto però è, vedi, io lo dico sempre, questa è una di quelle questioni in cui tu non puoi raggiungere un criterio di sostenibilità. È un po' come con l'impatto, diciamo così, individuale sull'ambiente. Tu non puoi raggiungere un criterio di stabilità mettendo delle regole in questo caso. Tu lo devi raggiungere facendo sì che ogni persona faccia delle scelte che siano conformi il più possibile a quello che poi è quello che viene chiamato bene comune. Cioè, io ad esempio, riconosco perfettamente la libertà di qualsiasi individuo, in qualsiasi situazione, di fare anche 7-8 figli, a discapito della sua stessa incolumità, della sua stessa felicità, e di quella delle persone intorno a sé. Io non voglio fare figli, cioè nel senso, io non faccio figli, io l'ho già detto chiaramente, una delle mie prospettive di vita è quella di non figliare, semplicemente perché valuto me stesso in un modo che però ha a che fare con me, capisci? Se io pongo dei criteri che siano assoluti, se per esempio domani si dice, il pianeta può sostenere soltanto 10 miliardi di individui, cosa succede quando arriviamo a 9 miliardi, 999 milioni, 999 milioni, 999? Che si fa? Sì, però stai correndo un po' troppo, allora, andiamo un po' per ordine perché io mi sono un po' perso. Io volevo all'inizio semplicemente far osservare un dato di fatto, ci sono 7 miliardi e mezzo, credo, cambiano di persone e andiamo sparati verso 9, d'accordo? Queste persone sono nate e quindi c'è un problema generale di loro diritto a vivere, consumare e avere standard di vita simili ai nostri. Il sinistrismo che ha trasformato i movimenti cosiddetti ecologisti o verdi nella metafora dell'anguria, verdi fuori e rossi dentro, dice no, tutto questo è male perché siete consumisti, il modello di sviluppo è quello sbagliato. Allora, qui si danno due osservazioni, una pesantissima che ho fatto a più di una in questi giorni è, beh, comincia tu. Certo. Io non ho nulla contro quelli che cambiano il modello di sviluppo, basta che comincino loro a smettere di consumare, di vestirsi, perché va capito che non è vero che c'è una fabbrica cattiva fatta da capitalisti cattivi che fa CO2. Il CO2 viene dal fatto che ti muovi in macchina, dal fatto che ti riscaldi, dal fatto che la generazione di energia elettrica, ho fatto osservare... È venuto fuori oggi Toninelli, Toninelli in un'intervista mi ha fatto morire. Sì, ho visto, pazzesco, esattamente. Auto elettriche, ma io sono uno Jeep diesel. Toninelli che è un uomo di un livello mentale pazzesco, è il simbolo dell'avventuriero ipocrita che fa il verde, viaggia con l'SUV diesel e poi predica l'ecologismo. Quindi c'è questa parte qua, possono tranquillamente cominciare se vogliono fare così. Poi c'è l'altra, quindi a livello individuale, poi c'è l'altra osservazione più generale e politica ed è la seguente, che in realtà la maniera in cui siamo riusciti a sopravvivere e alimentare 7 miliardi di persone senza distruggere il pianeta è stato, grazie a Dio, il progresso tecnologico indotto dal terribile modello di sviluppo. Perché siccome le risorse ambientali sono costose, sono scarse, se tu riesci a far funzionare un meccanismo di mercato, chi fa impresa o chi ha la capacità di fare innovazione cerca di risparmiarla. E qui si apre un altro capitolo sul quale io non ho assolutamente nessun dubbio, credo che la posizione delle destre in generale sia un'autentica stronzata. Non v'è alcun dubbio che esistano quelle che noi chiamiamo esternalità negative. La gente si riempie la bocca spesso in teoria della crescita, che va molto di moda, io trovo una storia delle esternalità positive che invece sono rarissime, che quando uno genera esternalità positive tende, come si dice, a introiettarsi, a cappararsene, e apprezzarle. L'esternalità negativa della congestione, dell'inquinamento, la causiamo tutti. Quindi non c'è niente di male contro tassare. Voi la mia opinione? Io credo, solo che certo è politicamente del tutto poco popolare, io tasserei chi fa tanti figli. Ecco, questa per esempio, sai cosa? Più che tassare io credo che sia... Lo dico onestamente, i figli sono un costo anche per gli altri, siamo una società ampia, non c'è mancanza di varietà umana, il mondo è pieno di gente, è giustissimo che tu abbia diritto a fare dei figli, però assumetene i costi. Siccome alcuni dei costi dei tuoi figli sono sopportati da tutti, e no, l'argomento pensioni qua non c'entra niente, che poi mi pagheranno le pensioni, è vero niente, mentre la loro educazione, il loro congestionare, il loro inquinare, è sopportato da tutti, più figli fai, più tasse pai. Ovviamente tutti i sistemi fiscali del mondo sono l'opposto. Sì, no, esatto, e più che altro, più che arrivare a tassare queste cose, io direi che andrebbero eliminate le agevolazioni alla natalità, sono quelle che sono... Già se fai quello, secondo me... Ah, ma hai ragione, certo, certo, io voglio tassare. Cioè, più che tassare, più che mettere un costo in più, che poi potrebbe risultare magari necessario quello, secondo me il punto è contrastare quelle che sono le politiche pro natalismo, il Renzi che dice le culle vuote, l'assegno familiare, tutte queste, queste sono palesi stronzate e su quello sono... Però le politiche pro natalismo da cosa vengono? Vengono dall'altra contraddizione, e cioè che oggi c'è l'ossessione di sovranismo, di essere più italiani, cioè c'è questa idea che l'essere italiano è un fatto biologico, quindi sono gli italiani che devono fare figli, perché se tu cerchi di far diventare italiano quello di cinque anni o di tre anni, o anche di un anno nato dalla madre di origine marocchina, o etiopi, piuttosto quello che vuoi tu, quello non diventerà italiano. Quindi l'italiano è figlio di Rick, figlio di Michele Boltri, perché è una cosa biologica, ovviamente, dentro questo c'è questo risorgere, questo nazionalismo fascistoide, razziale, che come hai menzionato giustamente tutti, ormai è una cosa condivisa. Però quello sarebbe... Un aspetto italiano... Concludo solo dicendo una cosa, io a me è capitato molto spesso di discutere in maniera molto animosa contro, e lo so che è un suicidio, ma contro persone, con persone che hanno fatto la scelta della fecondazione assistita, ok? Quanto sarebbe più importante invece creare una cultura per cui persone che non riescono ad avere figli si rivolgano all'adozione, con un'agevolazione delle politiche di adozione, per esempio, quindi dare una vita più agevole, più sana, più felice a persone che sono già in vita. Ecco, questo io credo che sia un argomento... Lascia però che ti dica che io su questo sono molto realista, nella stessa maniera in cui lo sono rispetto al mio cinismo verso i ragazzini che odiano il modello di sviluppo e invece non hanno capito niente, perché ci sguazzano. Io ho avuto parecchi amici che l'hanno fatto. Io ho avuto amici che hanno scelto l'adozione. Allora, qual è il problema dell'adozione? È che, sai, l'istinto procreativo c'è. Forse tu ce l'hai poco, devo dire che anch'io ce l'ho avuto poco. Io ho fatto un figlio per fare fondamentalmente un favore a quella che era mia moglie al tempo, che lo voleva, perché in realtà io al figlio voglio un bene del mondo. Non c'entra niente, questa è una volta che l'essere umano è nato, l'essere umano ha valore e te ne prendi cura, no? Quindi non è questo. Quindi forse neanch'io ce l'ho molto forte, però riconosco che la gente ce l'ha. E quindi questa ricerca della fecondazione assistita vedo persone dannarsi, cioè stare male, diventa un problema mentale e psicologico. Sì, sai Riccardo, credo sia difficile convincere le persone così che dovrebbero razionalmente essere più generosi e adottare i bambini. E infatti chi sceglie l'adozione, lascia che te lo dico, sai cosa è successo ormai? Ormai la gente fa l'adozione, i bambini disgraziati che nascono senza essere ordinati, senza essere commissionati, hanno scarsa fortuna, perché la gente che fa l'adozione, ne ho visti tanti, se li prenota. Cioè si sceglie la madre, ormai le agenzie ti offrono la madre, ti guardi le caratteristiche fisiologiche, ti dicono più o meno anche qual è il padre potere, c'è della gente letteralmente che ci fa i soldi sopra e che fa i figli su commissione. Io questo l'ho visto in svariate esperienze anche perché ho conosciuto bene. e sono figli su commissione. Ora qui, di nuovo, tu hai ragione a dire bisognerebbe, però ci stai mettendo una dimensione razionale e etica che non puoi pretendere da persone che stanno facendo certe scelte. Che è difficile pensare possa diventare politica e scelta comune, capisci? Sì, 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 sono d'accordo. Questo che voglio... Ed è analogo, secondo me, alla domanda assurda di questi di inviluppo felice. Perché voglio, glielo ho detto, glielo ripeto, ma cazzo, andate in Africa a dirtelo. Ma quello non è un argomento... Andate in Africa a dirtelo che dovranno continuare a morire di far vivere una merda. Esatto, però quello non è un argomento razionale. Quello è un argomento estremamente irrazionale. Anche perché prescinde completamente dalle informazioni scientifiche il fatto della decrescita felice. Cioè nel senso, siamo su due piani diversi. Perché... Ed è quella... Così torniamo all'argomento iniziale. Questo video si intitolerà Non sappiamo neanche noi di cosa abbiamo parlato. No, no, abbiamo parlato. Sono completamente legati. Siccome l'aspetto demografico è grandissima parte del problema ecologico. Sì, sì. Capisci? Cioè quello che è successo è lo sviluppo industriale della scienza e della nostra capacità di fare agricoltura, eccetera, ha creato possibilità per la gente. C'è poco da fare. Per vivere meglio mangiare di più e fare più figli. Questo è successo. È stata una... Agglutinarsi di cose che si andavano... Come dire, sono state seminate molti secoli prima dalla fine del 600 e durante il 700 in maniera chiarissima queste robe si mettono in mezzo e producono queste possibilità di sviluppo. Agli uomini, agli esseri umani sta roba deve essere piaciuta perché cazzo l'hanno fatta. Sì, 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 l'hanno fatta industrialmente effettivamente, sì, sì. Non ho visto grandi insurrezioni a distruggere Fabric. Se davvero la gente avesse voluto tornare alla pastorizia e alla vita chiamiamola uno dei contadini del 400. L'avrebbe fatto. L'avrebbero fatto. Sì, sì, sono d'accordo. E questo ha prodotto questa roba enorme, ha aumentato la speranza di vita e ha ridotto la fertilità mondialmente però ha aumentato enormemente il numero di persone che è sul pianeta Terra perché la rivoluzione verde ha aumentato la nostra capacità di alimentarci e quella medica di stare vivi e di non morire di malattie infernali. E questo è il problema ecologico, secondo me. Se lo guardi onestamente nella sua enorme complessità. Quindi abbiamo parlato di quello secondo me. Sì, sì, sì. No, assolutamente. E una cosa... Però torniamo alla roba di perché invece in Italia scusami perché lì mi sono perso io. Perché la destra italiana al di là degli aspetti rivoltanti delle maglie dei Salvini comunque anche quella meno indecente non riesce ad affrontare questo problema. Ecco tu... Più che la destra italiana mi verrebbe da dire perché lì sono tanti... Più che la destra italiana direi la classe produttiva. Cioè nel senso tu pensa all'imprenditoria pensa all'industria pensa a tutta questa classe molto spesso il tema dell'ambiente per esempio io la settimana prossima sarò a una conferenza di Vicenza Città Impresa. Ok? Mi sono guardato tutto il programma però non è menzionato questo tipo di problematica. Perché? Perché se tu vai all'interno del programma e leggi bene quello che c'è ti accorgi che i temi ambientali ci sono solo che sono temi di tipo produttivo. Per esempio oggi qual è il modo con cui un'azienda può intervenire sul problema ambientale? Facendo certi tipi di investimenti. Certi tipi di investimenti in ambito tecnologico che da un lato non sono pubblicizzati come intervento sull'ambiente perché non è non lo fa l'azienda per l'ambiente ma lo fa perché riconosce un profitto ovviamente. E anche lì dovremmo cominciare a ragionare su quanto l'intervento positivo sull'ambiente potrebbe avere un profitto diretto nella produttività eccetera eccetera. Dall'altra parte perché sappiamo benissimo che quelle tecnologie molto spesso vengono osteggiate dalla sensibilità ambientale. Ripeto pensa al nucleare pensa all'OGM ogni volta in cui si parla di queste tematiche che sono direttamente collegate al problema ambientale però si va fuori di testa per esempio ho ricevuto un messaggio qualche che è l'irrazionalità di cui si è appropriata la sinistra e cioè il nucleare è la soluzione più ovvia più immediata se l'avessimo adottata trent'anni fa mondialmente tutto sto casino sul CO2 sarebbe invece le fobie i terrori irrazionali alimentati dalla sinistra platealmente in maniera strumentale oserei dire in un certa fase addirittura probabilmente teleguidata dalla Russia comunista ha distrutto la possibilità di utilizzare quei pochi paesi che lo usano infatti stanno benissimo e anzi vendono tantissima energia e ci vendono l'elettricità a noi che è incredibile quando ci pensi e poi è una illusione assurda ci sono le centrali nucleari in Francia anche vicino al confine italiano ci compri l'elettricità tu pensi che davvero se c'è il tremendo disastro nucleare in Francia le Alpi ti proteggono mandate mandate al mare proprio sì sì c'è una questione di totale ragionevolezza non c'è per esempio ti dicevo c'è stato un ragazzo che mi ha scritto che mi ha fatto l'esempio della centrale di Garigliano la centrale di Garigliano che è stata smantellata nel 97 98 che era e dice vedi il problema non è il nucleare ma che in Italia il nucleare si fa male e si prende una centrale degli anni 60 70 ok per dire che nascevano le pecore a due teste è incredibile che ci sia questa cosa qua e da un lato c'è questo tipo di propaganda sul nucleare dall'altro circola ancora su Facebook quell'immagine del pomodoro con dentro il feto ok per dire no GM lo GM produce quando e c'è una totale disinformazione e sai cosa io vedendo le manifestazioni mi sono chiesto ma che occasione persa è stata pensati l'occasione davanti a centinaia di migliaia di persone di avere uno scienziato un Dario Bressanini che va sul palco e spiega in maniera non ideologizzata ma semplicemente portando informazioni cosa l'OGM può fare per esempio questi ragazzi non hanno idea del fatto che dove si sta sperimentando l'OGM c'è un settimo di territorio adibito alla produzione di più alimenti rispetto a quelli che ci permette l'agricoltura biologica e quella diciamo così tradizionale è enormemente ecologico l'OGM e in realtà no perché risparmia enormemente energia ma territorio soprattutto è quella trompente sì sì Riccardo per questa volta siamo totalmente d'accordo forse questa è una cosa adesso l'abbiamo sì è vero abbiamo sbozzato diecimila argomenti tutti legati come sempre ma va bene che nel dibattito di nuovo pubblico ma qui non è solo l'Italia devo dire anche il dibattito pubblico mondiale questo è interessante sì sì raccontaci un po' in Italia c'è questa particolare atmosfera becera folle questa associazione del problema del riscaldamento globale al capitalismo al neoliberismo c'è queste pesantezze nel resto del mondo è un po' attenuata anche se un po' c'è e poi ogni tanto la tentazione di saltarci sopra c'è devo dire sì che la confusione scusate il mio cane diversi si è messo lì quello che vuoi fare dei versi la confusione che c'è nel movimentismo ecologista e specialmente fra i giovani che non riescono a capire che la soluzione che loro vogliono quello che teoricamente nei loro sogni di ventenni o di diciottenni aspirano ha bisogno di tecnologia ha bisogno di tutto economico ed ha bisogno anche di andare oltre l'irrazionale e accettare la razionalità dell'esistenza di 7 miliardi e mezzo di persone che vogliono vivere bene che vogliono crescere che vogliono le stesse condizioni di vita agiata che hanno loro e che alcune soluzioni che loro odiano perché simbolo dell'innaturalità sono le strade maestre per arrivarci ci può costruire sono le strade maestre per arrivarci il resto si ci vogliono le tasse cioè ci occorre ragionare però anche lì bisogna cercare di capirlo cioè occorre ragionare sul fatto che ci sono delle esternalità e quindi vanno tassate o comunque prezzate in una maniera o nell'altra ma che farlo implica aumenti di costi per tutti cioè questo è l'altro aspetto che questi non riescono a capire cioè per apprezzarlo proprio la maniera in cui funziona per dissuadere il consumo è aumentare il prezzo cioè la tassa a quello serve certo 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 sì sì beh per redistribuire un prezzo fondamentalmente quello sì 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 per rendere le cose che chiamiamolo così questo termine generico inquinano tanto particolarmente costose e siccome nei consumi spontanei c'è un'alta percentuale di cose che inquinano tanto combatterlo veramente vuol dire ridurre pesantemente i consumi ma ridurre pesantemente i consumi in una maniera molto diretta aumentando i prezzi razionalità razionalità contro irrazionalità non c'è scampo secondo me la possono girare e voltare quanto voglio quanto è probabile che in futuro questo tipo di movimenti riescano ad aprirsi secondo te all'ascolto di voci che attualmente non sarebbero mai ascoltate all'interno di dicevo prima insomma persone che parlano di OGM di nucleare c'è la possibilità che spontaneamente ci sia un'apertura a queste cose secondo te io non lo vedo perché ormai queste cose il cosiddetto ecologismo movimento verde è una roba vecchia ai 40 anni è nato infatti platealmente dal riflusso post 68 ed è una specie di rifiuto fallita il sogno della rivoluzione comunista sono diventati verdi come forma di rifiuto della società industriale serie di mitologie per un periodo c'è stata questa roba di andare in campagna facendo le comuni se tu segui la traiettoria di alcuni dei leader di questi movimenti vedi proprio questa storia quel movimento è nato così poi se guardo le politiche vere le politiche vere non sono molto dissimili quelle razionali quelle che un po' funzionano da quelle di cui stiamo parlando con alcuni blocchi che rimane in Italia anche sull'ONG in generale nel mondo è molto diffuso rifiuto di accettare il nucleare come la soluzione che abbiamo a disposizione credo che se non c'è un'iniziativa da parte di persone come noi di andare a costruire un movimento ecco da questo punto dita ma lascia che spezzi una lancia Marco Cappato con cui come sai da qualche mese ha cominciato a dialogare ecco Marco Cappato va detto sta provando con grande coraggio porsi il problema nel senso che Marco e anche molto umilmente onestamente dice il problema ecologico ambientale c'è si vede ce lo percepisci fisicamente se il riscaldamento globale è totalmente antropogenico lo è al 40% al 50% alla fine non mi importa anche se lo è al 30% qualcosa voglio provare a fare però voglio farlo in maniera scientifica voglio farlo sulla base dei fatti riconoscendo e rispettando la libertà individuale perché mi rendo conto appunto che il mondo ha bisogno da un lato di salvare l'ambiente eccetera eccetera e dall'altro di permettere crescita economica ai miliardi che vivono in totale povertà Marco ci sta provando devo dire che da quel punto di vista spero di continuare il dialogo forse perché le soluzioni non sono facili perché vanno lungo queste strade che abbiamo parlato tu e io e la reazione popolare è una reazione molto isterica sì molto rabbiosa molto isterica sono sicuro che quando tu hai detto queste cose che io non sapevo sulla demografia sarei stato disastro cioè nel senso è stato ci ho fatto ci ho fatto quel video e poi ci ho fatto anche un video di risposta ad alcune delle cose quindi è stato veramente andrò a ascoltarmelo allora vado ad ascoltarmelo perché vorrete sì 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 ho parlato proprio di Ocasio Cortez appunto di quella cosa lì e ho cercato di portare delle fonti alternative perché poi in realtà sai c'è questa cosa interessante poi qui chiudiamo perché se no andiamo troppo lunghi però c'è questa cosa interessante da un lato c'hai la politica che dice pronatalismo politiche per la vita politiche per le nascite dall'altro c'hai una sensibilità popolare che invece va nell'esatto opposto a parole e quindi grida continuamente che siamo in troppi che bisognerebbe mettere un freno e quando si dice mettere un freno ovviamente sappiamo che l'unica soluzione che la gente viene in mente qual è? è quello di dare più potere a chi decide di cosa far fare alla tua vita e questo è obiettivamente inaccettabile c'era non mi ricordo c'era uno stand up comedian americano ancora anni fa molti anni fa erano già ancora in California quindi 30 anni fa c'era una bellissima battuta su questa cosa che hai appena descritto ed era there is way too many of you and about the right number of us sì esatto esatto mi sa che non vorrei dire ma forse è di George Carlin questa potrebbe essere non vorrei se sia George Carlin io sai come sei con i nomi è molto bravo che sia Carlin giustissimo che appunto la battuta era no no noi siamo il numero giusto sono gli altri che sono troppi che sono i troppi è sempre così è sempre così siamo noi che consumiamo il giusto gli altri consumano sempre troppo è sempre sì che cazzo vogliono questi cinesi che sono un miliardo e quattro si riducessero venissero ridotti a un decimo e si accontentassero di mangiare il riso come hanno fatto tutta la vita cioè che vogliono anche loro vivere bene come gli italiani ma che preteso mandiamo un altro Mao dai e risolviamo le cose ma sì o gli africani che adesso crescono vogliono venire anche loro qua poi stanno lì che preteso terrificante terrificante bene Michele grazie mille per la chiacchierata siamo andati ben oltre la mezz'ora quindi mamma mia scusa taglia un po' di non taglio mai niente io mai niente qui mai niente grazie mille grazie a tutti per l'ascolto e come sempre ci vediamo sabato prossimo e Michele non è tutto noia? ciò che pensa grande ciao a tutti ormai ciao ciao ciao